Abbiamo appena analizzato il punto 1. Einstein, come tutti i socialisti, non riusciva a concepire un ordine spontaneo. Vediamo adesso il punto 2. Nelle scienze sociali le sue posizioni avevano una incoerenza logica che crea un interessante contrasto con la sua coerenza logica straordinariamente rigorosa nel campo della fisica. Per esempio, mentre da un lato era un appassionato difensore dell'individualità, ciò che lo repelleva di più era la repressione del libero pensiero e dell'individualità. Dall'altro, Einstein era favorevole alla giustizia sociale. La lotta per la giustizia sociale è la cosa di maggior valore che si possa fare nella vita. Eppure la giustizia sociale implica politiche che hanno lo scopo di aggredire e reprimere l'individualità. Quindi non si può essere contemporaneamente a favore e a difesa dell'individualità e della cosiddetta giustizia. Il termine giustizia sociale è di per sé un non senso logico. Infatti presuppone che esista una giustizia macro separata e distinta da una giustizia micro. Cosa significa? Che se un'azione è ingiusta se la compie un individuo, non può diventare giusta se la compie lo Stato e cioè i parassiti che lo controllano. Con questo altisonante nome giustizia sociale si vuole dare rispettabilità alle politiche redistributive che sono un atto di saccheggio e implicano un'aggressione alla stessa individualità delle persone. E qui Berindelli fa un esempio concreto. Immagina due persone, Marco e Giorgio. Marco, per ragioni che riguardano solo lui, può avere come priorità il tempo libero e quindi sceglie un lavoro che a fronte di un compenso relativamente basso gli garantisce molto tempo libero. Viceversa, sempre per motivi che riguardano solo lui, questo è il principio della soggettività del valore, Giorgio può avere come priorità l'acquisto di una Lamborghini e quindi sceglie un lavoro che gli lascia pochissimo tempo libero ma gli garantisce un alto reddito. Nel momento in cui lo Stato, in nome della giustizia sociale, redistribuisce risorse da Giorgio che guadagna di più a Marco che guadagna di meno, intanto commette legalmente un atto di saccheggio e viola l'uguaglianza di fronte alla legge ma sostiene esplicitamente che i gusti e le priorità di Marco sono più meritevoli di quelli di Giorgio per esempio perché condivisi dalla maggioranza. Aggredisce Giorgio per avere gusti e priorità diversi da quelli di Marco. Una persona, dal suo punto di vista, può ritenere che i gusti di Giorgio siano sbagliati, quelli di Marco siano più importanti ma in una società libera questi giudizi di valore non devono e non possono essere motivo di un'azione coercitiva per esempio redistributiva da parte dello Stato. Invece la posizione di Einstein che era favorevole alla redistribuzione delle risorse mostra il suo disprezzo per quella stessa individualità che gli difende mentre da un lato è convinto che nessuno abbia il diritto di imporre le proprie idee e i propri pensieri agli altri allo stesso tempo invoca politiche che implicano l'imposizione dei gusti di chi comanda quindi della maggioranza o del più forte e agli altri. Einstein non ha quindi avuto la stessa coerenza che aveva nel campo della fisica teorica non ha avuto la stessa coerenza nella sua visione del sistema politico ed economico dunque pur essendo un genio della fisica aveva una deficienza di capacità intellettiva simile a quella dei socialisti nel campo delle scienze sociali. Einstein difese la libertà di parole e di pensiero durante il maccartismo e questo dimostra che fosse una persona per bene nobile ma ciò non toglie che era intellettualmente incapace di concepire un ordine spontaneo e che fosse incoerente nella sua difesa della libertà di pensiero e dell'individualità.